Ciao a tutti, mi presento, sono Prisca, un'artista italiana e avevo assolutamente bisogno di un nuovo logo per le mie opere d'arte, quindi mi sono affidata dall'azienda Art Logo e con mia piacevole sorpresa sono rimasta molto soddisfatta per il logo che mi hanno creato e quindi lo consiglio vivamente a tutte le aziende che hanno bisogno di avere un nuovo brand, un nuovo logo, sia per le tempistiche che per la tecnica, sono molto professionali e creativi, quindi lo consiglio vivamente a tutti. Ciao! Ciao!